Un appuntamento per ogni giorno dell'anno o quasi. Sono quelli culturali, artistici e solidali proposti dall'Agenda 2024 del Tric Teatri di Bari, una pubblicazione tascabile che racconta quello che sarà il nuovo anno per l'unico teatro di rilevante interesse culturale pugliese, a partire dagli spazi che ospitano le iniziative, il Teatro Chismet di Bari, il Radar di Monopoli e la Cittadella degli Artisti di Molfetta. Come sempre questo è anche un momento di connessione con il territorio, questa è la cosa interessante, anche di connessione con i giovani. Il territorio riconosce il valore della presenza di un teatro e quindi in qualche modo ci supporterà e ci aiuterà a fare sempre meglio. Il teatro sperimentale del Chismet si consolida sempre di più in un panorama di un'offerta culturale barese sempre più di alta qualità e dunque che si inserisce in un cartellone ormai destagionalizzato che vede la città di Bari riempire gli appuntamenti ogni giorno dell'anno. Un'Agenda che va oltre la funzione classica di promemoria ma che rinnova l'impegno di farsi progetto di divulgazione culturale, contenitore di idee e spazio di espressione artistica per i più giovani. Per il 14esimo anno ad aprire l'agenda sono le parole di un giovane talento under 35 della scrittura, selezionato attraverso il contest letterario 2024 battute per un anno di teatro. Un contest in cui i partecipanti si sono lasciati ispirare da un incipit a firma di Mario Desiati intitolato Bagliori e per cui è risultata vincitrice la 23enne Raffaella Di Cosmo. Sono molto contenta e non me l'aspettavo. Ho letto l'incipit e mi sono lasciata trasportare e il racconto è come se fosse nato da sé.